Grandi novità di Mercedes-Benz in questa presentazione digitale del Salone di Ginevra. In primis la classe E nuova generazione, completamente rinnovata, in versione berlina, station wagon e all-terrain. Poi la nuova GLA, il piccolo SUV di Mercedes-Benz che cresce 10 cm in dimensioni, in altezza, diventa un vero e proprio SUV e poi un'offensiva senza precedenti per le motorizzazioni plug-in hybrid perché oltre a quella attualmente disponibile si completa l'offerta sulle compatte di Mercedes quindi arriva anche sulla GLA e anche sulla CLA e sulla CLA Shooting Brake. Su queste, sulle compatte, pensate che arriva ad avere 70 km di economia soltanto in elettrico quindi una soluzione perfetta per un utilizzo cittadino e un utilizzo extraurbano. E poi un'altra grande novità è quella della classe E perché fa il suo debutto, la versione plug-in hybrid diesel con, pensate, anche la variante 4 ruote motrici che è proprio una premiere in campo automobilistico di questa combinazione di tecnologie. E poi tante novità anche per quanto riguarda AMG, arriva la GLA che oltre alla 35 e aggiunge anche il top del motore 4 cilindri superpompato di AMG che arriva fino a 421 cavalli. Poi la E 53 e poi fa il suo debutto anche sulla, su una macchina che sta arrivando, la GLE Coupé che è stata presentata da poco e anche su questa viene presentata la variante 63 quindi il sogno del SUV per eccellenza di Mercedes-Benz.